Buongiorno, signora. Scusi, Piazza Dante è questa? Sì. È il numero 21. E che ci sono ancora i numeri da ste parti? Chi cercate? Stiamo cercando una comune. Una che? Dove vivono dei ragazzi. La dirige uno un po' grasso, napoletano, che veste sempre di lungo. Ah, ho capito. Dove stanno tutti quei froci, mignottelli e drogati? Ma sentila. È là da dietro, a quel palazzetto. Ah, grazie. Che c'annate pure voi? Sì. Arrivederci. Diamo pazze per queste cose. Coraggio, non facciamoci influenzare. Ehi, è qui la comune del Nazariota? Sì, sta qui. Ah, meno male. Perché ci hanno nato pure voi? Certo. Beh, sì. Allora non ci torno più. Non tornarci per davvero. E tu cerchi a nati. Ah, Tina, io da qui non mi muovo più. Ah, Tina, io da qui non mi muovo più. Niente da fare. E' completamente partito. E' completamente partito. Io li abbiamo da cuivoco.